Arrivì C'è un dinozorio come si dice che è un dinozorio Non so si dice che è un dinozorio come si dice che è un dino di Aminam, non sono molto il gianci, ma muavero, un ricordo. Non, non, ma la mia, non, ma la mia, non, non. Lindo, non è cammino lì di naso. È un cattopo, non sono un cattopo, non sono un cattopo. Non sono un cattopo di un cattopo, non sono un cattopo. E' un cattopo, non è un cattopo. Ma ora, io stiamo andando in quel cattopo. Quindi, il cammino di Dinozò ha envoyato un avion per un interplanetario. È un avion. 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 C'est l'atterinstallation della pista. C'è un avion. Canina es un Above uma mena . C'è un avion. Hanno bambini. È un avion. C'è un avion. Grazie